carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi spero che state bene nello spirito e anche nel corpo oggi è 19 giugno e vi invito ad aprire la vostra bibbia nel libro della genesi al capitolo 18 e leggeremo insieme il verso 14 dove è scritto vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il signore a tempo fissato l'anno prossimo tornerò e sarà avrò un figlio ora queste parole vengono dette ad abramo in occasione in un'occasione particolare ci sono degli angeli che debbono andare a sodoma e gomorra abramo l'incontra li vede passare l'invita a stare a casa sua e a un certo punto avviene che mentre questi stavano mangiando dopo aver consumato il pasto chiesero di sara sua moglie ed egli rispose che era nella tenda e uno di questi disse tornerò certamente da te tra un anno e allora tua moglie sara avrà un figlio sara stava ascoltando abramo sara erano vecchi avanti negli anni sara non aveva più i corsi ordinari delle donne proprio per questo rise dentro di sé dicendo vecchia come sono dovrei avere tali piaceri e anche il mio signore oramai è vecchio e il signore disse ad abramo perché mai sara ha riso perché mette in dubbio queste parole e aggiunge vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il signore ora questa parola dovrebbe essere per noi uno stimolo affinché non perdiamo mai la speranza ma possiamo avere sempre una piena confidenza come si diceva una volta nella potenza del signore siamo talmente presi dai problemi della vita che delle volte pensiamo che ciò che per noi sia impossibile e ciò che è impossibile o molto difficile per gli uomini a cui abbiamo chiesto aiuto lo sia altrettanto per il signore e invece non è così quello che il signore può fare va molto al di là anche di quello che noi possiamo provare a immaginare gli uomini falliscono e non perché delle volte ci vogliono del male oppure siano superficiali ma proprio perché sono incapaci di poterci aiutare oltre un certo limite ricordate la storia di quella donna che era afflitta ad una emorragia che da 12 anni aveva ormai speso tutti i suoi averi e era ricorsa ai migliori medici e non aveva ottenuto nessuna risposta al suo problema ebbene quella donna quando sentì che c'era gesù che passava disse in se stessa se io tocco il lembo della veste quello che i medici non hanno potuto fare in questi 12 anni io lo riceverò in un istante perché aveva realizzato che cristo era l'onnipotente e allora fratelli sorelle noi che abbiamo la testimonianza che ci viene dalla bibbia noi che abbiamo udito anche racconti attuali di come il signore compie miracoli potenti perché dobbiamo dubitare della potenza del signore perché dobbiamo mettere dei limiti a quello che il signore può fare e non pensiamo che perché magari siamo membri di una piccola comunità oppure viviamo in piccoli paesi o forse il pastore della nostra comunità non è un pastore rinomato che non ci possa essere una risposta da parte del signore perché l'opera non dipende dal luogo dove viviamo l'opera non diventa non dipende dai membri della comunità di cui facciamo parte l'opera non è una conseguenza dell'abilità del pastore o del conduttore della comunità l'opera è opera di dio e dio compie le opere in risposta alla preghiera di intercessione fatta nel nome di gesù non c'è comunità non c'è pastore non c'è fratello sorella che meriterebbe una risposta di dio ecco perché noi preghiamo nel nome di gesù e allora se questo è vero quando i problemi arrivano non disperiamo ma incinocchiamoci preghiamo e confidiamo nel signore non ridiamo come sarà lo dico anche a te che forse stai ridendo in questo momento non ridiamo come sarà ma crediamo che al signore ogni cosa è possibile e forse la mancata risposta che tu stai vedendo nella tua vita è una conseguenza non della piccola comunità in cui vivi né di altri fattori è una conseguenza del fatto che tu non hai fede nel signore e non credi nella sua onnipotenza ma stamattina forse è venuto il momento di mettere da parte i tuoi pregiudizi per cominciare a sperare nel signore mettendo da parte ogni altra cosa perché il signore è quello che farà l'opera e a lui dovrà andare tutta quanta la gloria perché il signore non divide la sua gloria con nessun uomo c'è troppo c'è forse qualcosa di troppo difficile per il signore beh no non c'è e allora cosa dice questo uomo che lì presente al tempo fissato l'anno prossimo tornerà e sarà un figlio al tempo fissato c'è un tempo che dio stabilisce per dare una risposta e quel tempo che egli ha stabilito è il tempo giusto e del tempo migliore e allora noi spetta scusate il bisticcio di parole aspettare aspettare il tempo di dio senza stancarci o fermarci nel pregare ma nell'attesa continuando ad invocare il signore consacrando la nostra vita al signore perché egli sa quello che fa ed egli sa quello è il momento opportuno e propizio e allora forse sarà tra un anno forse sarà tra un giorno forse sarà oggi non è importante quando l'importante che quando il signore interverrà noi vedremo la sua gloria nella nostra vita e questo sarà un'occasione di salvezza forse per qualche membro della nostra famiglia incredulo o per qualche amico o per qualche conoscente perché dio ha un piano ed egli si serve di ogni circostanza della vita dei suoi figli per poter far prosperare il suo regno e per poter far sviluppare la fede di quelli che sperano e confidano in lui c'è qualcosa di difficile per il signore no al tempo stabilito cioè tra un anno io tornerò e il figlio ci sarà e così avvenne cari perché di lì a un anno sarà ebbe un figlio quello che tutti quanti noi conosciamo aver avuto il nome di isacco perché quando dio parla quando dio fa una promessa lui la mantiene e allora siccome nella bibbia ci sono tante promesse che sono per tutti coloro che hanno creduto la pienezza dello spirito santo o per coloro che creduto ancora non hanno la salvezza questa mattina cosa aspetti continua a cercare il signore o comincia a cercare il signore e mentre attendi che egli risponda dal cielo fa che la tua vita possa essere una vita che si consacra sempre di più a dio e permette al signore di poter continuare a lavorare nel tuo cuore affinché tu possa essere modellato modellata e possa diventare uno strumento nelle sue mani nulla impossibile per il signore non disperare ma prega confide in dio e tu vedrai la risposta del signore che al tempo opportuno arriverà la pace e la grazia l'amore e la presenza di dio sia con noi ancora oggi dio ci benedica insieme